No, non si sente, non si sente, non si sente, no, per colpa mia Ma hai il ventilatore acceso? No Sotto c'è... Così, proprio Cosa vuol dire? Eh, sembra una trasmissione della radio degli anni 30, Andrea Adesso? Sbatti un po' la telecamera, ci sarà finito qualcosa detto Che cazzo ne so Meglio? Sotto, tutto il tuo audio ha un fondo di... Non è fortissimo, però è fastidioso Non sono in bottiglia, ragazzi Adesso? È l'eco della TV Ah Sta a posto, eh Adesso siamo a posto Perfetto, perfetto Scusatemi per questa gag Morente Ma che ho vattato? Sì, ma non vi sentite le live di Andrea con le cuffie da 400 euro, ragazzi? Cioè, è ovvio che se negli ingredienti c'è la merda Il piatto non sarà mai un piatto stellato, no? Ma che è questa accusa? Non mi sento male io Quello c'ha una cassa di fianco al microfono E sono tre anni che voi sentite due volte Tutto, tutto Dovete fargli causa perché vi ha rovinato l'udito Chiaro? E il tuo silenzio non è... Grazie, frate No, ma no, non mi bannare No, che vi devi ridare tutti i cosi adesso Ma puoi bannare qualcosa che sono vocalmente nella live Sono le stesse persone Grazie a Doria Dark Aspettate Andiamo nei nuovi Andiamo nei nuovi Freaks, proclavita, stop, achimi, QLS Ok, va bene L'hashtag di Twitter che impazzisce per colpa del cazzo Ci ho messo cinque ore per farla Spero ti piaccia Forse... Forse non è il tuo lavoro, Bog Però ha un certo che Ha un certo che Un'altra sorpresa con quasi due etti di cocaina in casa Oggi è arrivata la condanna per una donna sul monese Sono uno Cazzo, adesso sì, adesso lo vedo Stavo in piedi Da lontano sembrava una donna, cazzo Vedevo solo la metà Ancora costa la storia Grazie lacrimogenizzato Grazie lacrimogenizzato Per i tre ci pensi Grazie mille Il Bobo Vieri si dissocia Agno tre corrette Comunque ridendo e scherzandoti Questa qua, se non sbaglio Omi, tu sei capace a battere dritte Sì, 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 mandala a me R2, L2 Mia L2? R2 Ti metto Vaviv Marius, ok Ok, ragazzi Al mio tre corrette, eh Sì, sì, sì Uno Due Tre Bello Comunque ridendo e scherzandoti Questa qua, se non sbaglio Omi, tu sei capace a battere Vabbè, ho fatto delle figure di merda Ah, ancora? Queste le so battere io, se vuoi Ah, sbannato R2 Sbannato, welcome back Non è stato facile Non è stato facile Ma sono tornato Vediamo un po' questa Questa piccola punizione Queste le so battere io, se vuoi Dimmi cos'è che devo fare R2 Eh, non mi va con Vabbè, non ti preoccupare Non ti preoccupare Batti, batti Aspetta, aspetta Devo mettere Papi? Sì 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 Al mio tre Al mio tre scattate Uno Due Tre Sono in fuori gioco Bene ragazzi, dai Questo schema è un minimo da rivedere Ma l'idea è buona E se le so battere io, se vuoi Che succede qua? Che succede qua? Che hai tolto là? Che hai tolto là? Che hai tolto là? Che hai tolto là? Che hai tolto? Che hai tolto là? Quelle si è di pitch Cos'è qua? Cos'è qua? Hai rispettato? Questo messo hai rispettato la DMCA? Sì Il copyright? Sì Che continuo è questo? Hai appena visto la mail Controlla il continuo ragazzo Controlla il continuo ragazzo Controlla il continuo ragazzo Fermo qua Fermo Con le mani Fermo qua Niente mani su Fara alzare Fara alzare Fermi Fermi Ragazzi Fermi 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 La legge mi insegna Che possa andare via Vieni qui Non sto arricchendo Guardi qua Guardi qua Guardi qua Che c'è qui? Chi è che scrive? La legge mi insegna Ragazzi vi nominate la vita per queste stronzate Scrivete subito cosa ha fatto il ragazzo Che Cosa ha fatto il ragazzo? Chi è che parla? Chi è che parla? Chi è lì? Controlla qua cane Lino Controlla che c'è addosso Che c'è addosso Lino? No Mane qui Mane ferme qui Che ha fatto il ragazzo? Guarda che chi parla non si fa nemmeno un giorno eh Magari ci facciamo una bella Nonna schedatina Mi tocca Fermi Fermi Mettilo lì Mettilo lì No Dall'ultimo Un attimo Saluto lì Chi c'è qua? Scusi Mi sente? Sì pronto Sì Che succede qua? Niente Stiamo facendo dell'entertainment L'entertainment Cos'è qua? Journey across Bosnia Cos'è questo? Vedo io qua Cos'è? Cos'è questo? È uno schermo È uno schermo È un video È un video agente Ha un video? Cos'è? Illegalità? Cos'è? C'è che hai trovato qui? Ah 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 la fortuna non esiste questo è buono ha messo delle musiche oggi niente musica culi niente ha detto che le parole non si possono dire sembra a posto qua sembra a posto però gente volevo chiederti una cosa ho provato ieri a fare ho provato ieri a fare un test con il suo canto antidroga e prova a far finta di morire guardi sono in servizio attualmente io cos'è qua? cosa abbiamo trovato qui? cos'è questo? è un energy dream cos'è questa roba qui? è nella bottiglia dell'acqua cos'è questo? non voglio dire il nome perchè non gli stanno simpatici fermi arancia questo è level up no si si è polase ecco mi hai fatto dire il nome questo lo sequestriamo per il resto tutto ok la streaming può continuare grazie gente grazie mille maresciallo lino lino agente chiedo io chiedo io agente buon lavoro allora ritorniamo un attimo nel reddit vediamo cosa cosa ci propone questa succulenzia ragazzi il fischio iniziale è l'inizio della partita Hank being Hank mi muto Alexa autodistruzione ciao mi dupo tanto tempo non ha sentito grazie Anto per l'anno cosa fa? che ne so io prova Alexa autodistruzione è bassa ma è morentissimo fa un candavo e poi dice scherzavo ok ok va bene va bene quanto durano le partite dell'Italia secondo Umi? no venerdì c'è la partita dell'Italia venerdì prossimo guarderò la partita dell'Italia venerdì prossimo è vero è vero guarderemo insieme l'Italia se voi state in casa se volete vedere l'Italia va bene sentite il club è croce edilizia ok va bene grazie per questo meme un messaggio alla Carla Alberto grazie a Donè e sarai per sempre la mia lady grazie a Yano non per farò foro no today I want to say porcordias apporte i modificati avendice voi forse Napoli cerc verdade state me lelelelelelelele xxxxxxxxxx mi ha fatto più ridere del dovuto mi ha fatto più ridere del dovuto notevole posso dire notevole grazie grazie Cole per questa fantazia artwork gioco di mano, gioco dove di mano si scherza, si scherza ma poi con le mani si arriva sempre più o meno sono un po' lo stesso messaggio sì sì, G.B. stava scherzando con le mani con un suo amico Disney che poi si è arrabbiato arrabbiato veramente perché gli ha rotto tipo il caricatore ma perché tu ti sti meme di FIFA oggi? ma cosa c'entra? non farò FIFA grazie non farò FIFA oggi scusatemi se non puoi sconfiggere Mr. Hank finalmente driver senza Hank ah va bene, bravo Hank quando c'era Irle io sono contento perché alla fine posso farmi anche un paio di cazzi Milan in Champions League forza diavolo ci sta grazie Vax poi sei a Torino non è che puoi venire sempre per la Irla eh infatti no, ogni tot sicuramente verrà a Milano quest'estate qualche giorno potremo organizzare ma c'è se scherza, si scherza ma con le mani si arriva sempre alle mani ok, di nuovo di nuovo questo contenuto Diego 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 eccomi, sono io va bene, grazie Hank molto carino va bene si compie sempre dai migliori grazie chiaramente parmigiano reggiano tieni omi non vorrei che ti mancasse del parmigiano sulla pasta sono un grande amante del parmigiano letteralmente mangio quasi il parmigiano con la pasta lo ammetto lo ammetto lo ammetto giudice ma non sono dell'azerbaigian ragazzi non sono azerbaigiano con tutto rispetto per gli azerbaigiani in chat grazie ieri ho detto alla tipa del ristorante che se ci sono delle persone che si fingono umane e chiamano non rispondere grazie ho sbagliato lo ha fatto ridere nella mia testa era tutto che funzionava perfettamente ma è la produzione che ti ha rovinato anche ragazzi abito in un'altra città non è che posso farci niente Luis viene a fare muschio viene a lavorare tra l'altro ho anche incontrato io sono le grate ormai siamo amici da lungo tempo quindi non è che grazie Ice Cream Man Milano Provincia Topazia Capitale grazie ho deciso ieri anche di chiamare Milano Topazia poi che c'è la topa no per Geronimo Stilton ah no che dici ma non è che dici vabbè vado a prendermi due bine no proprio li butti no non li sta buttando fida ecco io non demordo non demordo voglio fottere sto pastato pezzo di merda voglio provare a fotterlo ah così invece non metterò mai un capo 500 euro metto 80 euro e lo gnomo devo dire che ha il suo fascino grazie Caparelli buona camicia oh buona camicia bello buona camicia buona camicia a tutti in chat chissà sa grazie mille Leonardo change my mind un po' pure l'opinion grazie diversa che vuol dire peggio ma da uno che è stop IRL si chiama quindi non so cosa quindi niente devi fare devo fare solo reaction solo reaction stop IRL stop interazioni con le altre persone solo reaction grazie Simmons grazie a tutti Grazie a tutti.